Presentati in un convegno a Canosa di Puglia nei giorni scorsi, i nuovi scavi archeologici e le recenti scoperte realizzate nelle catacombe cristiane di Lama Popoli, comunemente chiamate di Santa Sofia dalla Pontificia Commissione di Arte Sacra, tra i relatori Paola De Santis, ispettore delle catacombe di Puglia. Sul luogo del ritrovamento, il nostro Francesco Rossi con Monsignor Felice Bacco, parroco della concatedrale basilica di San Sabino di Canosa. Francesco, a te la linea. Sì, grazie per la linea. Ci troviamo a Canosa, lì dove sorgono i primi insediamenti cristiani della città, che era una città importantissima all'epoca. Stiamo parlando del IV secolo d.C. e quando Canosa era davvero il centro, il cuore pulsante di tutta la Puglia e anche della Calabria. Siamo in compagnia di Monsignor Felice Bacco, vicario episcopale, rettore della concatedrale di Canosa. Don Felice, davvero una struttura meravigliosa. Nei giorni scorsi avete tenuto un importante convegno per illustrare alcune scoperte archeologiche importantissime. Preciso che questa è una zona cimiteriale e non è sicuramente la prima per quanto riguarda il periodo cristiano, perché noi abbiamo anche qui accanto il Battistero di San Giovanni, dove c'è la prima cattedrale, ci sono anche lì sepolture. Qui sono catacombe cristiane. Pensate che le catacombe cristiane le trovate solo qui a Canosa, poi bisogna andare o a Napoli, Roma naturalmente, poi in Sicilia, Siracusa e Palermo. Quindi per tutto il territorio del meridione solo Canosa ha le catacombe cristiane. Che area è questa? Questa si chiama area cimiteriale di Lama Popoli, perché c'era un torrente qui, un ruscello, che si chiama appunto Lama Popoli. Tendo ancora a precisare che le catacombe cristiane, secondo la revisione del concordato avvenuto nel 1984 tra Casaroli e Craxi, le catacombe cristiane sono di pertinenza della Santa Sede, cioè dove è dimostrato che sono cristiane, quindi i segni monogrammi come è successo per queste catacombe, di per sé la pertinenza entra nelle disponibilità della Santa Sede. Quindi in questo momento qui ha scavato la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, è stato qui anche il segretario, che poi è il nostro concittadino, Don Monsignor Lello Iacobone. E quindi è la Santa Sede che sta scavando e in questo ultimo scavo sono uscite cose meravigliose. Ecco, la data a cui ti riferivi tu è una data, il IV secolo, 340, di un'iscrizione su una tomba. Siamo nell'età consolare, quindi già abbiamo messo un primo paletto, però non possiamo dire che sono del IV secolo. Potrebbero essere anche, lo speriamo, lo auguriamo, perché noi abbiamo un'antichissima tradizione secondo cui la Chiesa qui inizia, la prima comunità cristiana risale a almeno un secolo prima. Almeno, perché poi c'è la tradizione antichissima che vuole nel I secolo un vescovo qui a Canosa. Quindi ecco, sono i primi segni datati scientificamente perché sono iscrizioni che ci permettono di dire che siamo nelle catacombe cristiane del IV secolo attualmente. Un patrimonio straordinario? Come può essere messo a sistema in maniera tale che quanta più gente possibile possa fruirne? Questa è chi vala alle radici della nostra fede cristiana. E guardate, sono uscite cose meravigliose, tra cui due pavoni che bevano alla fonte. Per noi il pavone è l'eternità e la fonte è Dio e Gesù, cioè quindi il desiderio di eternità. Dei pavoni meravigliosi, straordinari. Poi ci sono molti monogrammi cristologici, la P e la X, no? E tante altre iscrizioni, lucerne con la croce, tante cosette. E la cosa bella è che troviamo molte volte le decorazioni fatte di elementi della vegetazione, foglie, quasi a dire siamo in un giardino. Ecco, il giardino è l'Eden, quindi c'è la fede nella resurrezione, nella vita eterna. Non siamo in un luogo, diciamo, sepolclare dove c'è la fine, la morte, prevale, come dire, il senso di sconforto, di afflizione. C'è invece la fede nella resurrezione e nella vita eterna, la vita. Ed è davvero un luogo in cui si respira la storia. Forse in tanti dovrebbero passare qui da Canosa di Puglia per respirare quest'aria che appunto trasuda della vita dei secoli scorsi. Se vogliamo testimonianze di questa comunità, soprattutto ecco, i cristiani, la prima qui, l'organizzazione anche di una comunità cristiana, e quindi gli elementi, i primi simboli della fede cristiana, sicuramente Canosa adesso è diventato assolutamente un punto forte di riferimento. Chi va, cerca le radici della nostra fede in Puglia, io credo che questo sia uno dei luoghi assolutamente da visitare. E allora grazie a Don Felice Bacco per questa sua testimonianza. Se non avete domande da studio, la linea può tornare alla regia. Grazie a Don Felice Bacco.